Ciao a tutti da Out of Beat da Tonissa Uffa oggi vi faccio vedere questa applicazione Good Lock è una diciamo una raccolta di app e di estensioni del firmware Samsung in particolare della One UI che permette di personalizzare in modo più completo e in modo più avanzato lo smartphone come se già non ci fosse abbastanza personalizzazione nel firmware Samsung allora in pratica quest'app si inserisce all'interno del discorso più ampio che sto facendo ultimamente di recensirvi un po' tutte le applicazioni che utilizzo per personalizzare in modo avanzato lo smartphone Android ovviamente quest'app è specifica per Samsung è da pochissimo disponibile anche in Italia non è stata interamente tradotta anzi non è stata proprio tradotta se non sbaglio però la scaricate sul Galaxy Store dove potete scaricare le app e adesso la andiamo a vedere ovviamente io non ho installato tutte le singole app ma ho installato solo quelle che ritengo opportuno ma le andiamo a vedere comunque allora questa è la schermata iniziale che ci troviamo c'è una prima parte unit e un'altra parte family che comunque le andremo a vedere tutte allora in pratica qui come potete vedere la schermata iniziale lockstar io non ce l'ho installata però basta tapparci sopra c'è il collegamento al Galaxy Store che permette di scaricare l'app allora non la installo perché non la utilizzo lockstar in pratica permette di personalizzare la lock screen del nostro Samsung qui possiamo editare il lock screen impostare il tempo impostare la posizione dei vari layout il wallpaper l'orologio e gli oggetti quindi possiamo andare a definire una nuova lock screen in base ai contenuti che riteniamo più opportuno in questo caso vedete c'è ci sono i face widgets l'help text i vari shortcut cioè i collegamenti veloce veloci e quant'altro insomma è questa un'app che mi permette di divertirvi sulla lock screen a me basta quella stock quickstar quickstar io l'ho installata ma giusto per farvi vedere che c'è la possibilità di personalizzare i quick settings io utilizzo X installer che mi tema tutta la UI dello smartphone trovate sempre la recensione all'interno del canale youtube e nei link in descrizione qui in pratica attivandolo possiamo andare a personalizzare questa ok ovviamente scegliete voi i tipi di colore ok e l'andate a personalizzare ovviamente applicate e sarà cambiare in questo modo ci sono dei pacchetti già fatti poi sotto c'è la possibilità di andare a impostare le informazioni di rete dove le vogliamo visualizzare nell'home screen nel lock screen o nel pannello esteso oltre a deselezionare la visualizzazione delle icone di sistema quindi se c'è qualcosa che non volete lo potete disattivare quindi questo un po' oltre alla posizione dell'orologio se volete nasconderlo metterò a destra o a sinistra notification pop up qui sono la possibilità con uno swipe di aggiungere questa visualizzazione qui ok quindi la possibilità di farla vedere in una visualizzazione pop up ma a noi poco interessa comunque cioè a me poco interessa la disattivo perché a me piace questa e quindi quella che ho installato a parte però questo vi permette di sbizzarrirvi con la personalizzazione del dei quick settings task changer task changer permette come dice la parola stessa di cambiare il task manager quindi in pratica come vi faccio vedere io ho impostato questo tipo di visualizzazione raccolta che è possibile selezionarla qui ma se volete c'è pure quella la visualizzazione a griglia a me piace slim list no scusate vertical stock no carosello no grid no list no stack stack poi c'è la possibilità anche di fare mini mode come vedete io prima ce l'ho ce l'avevo mini mode blur effect ossia la sfocatura dello sfondo che vedete qua dietro quindi se la volete più o meno sfocato se centrare l'applicazione attualmente in uso ok oppure no gesture cube effect dovrebbe essere questo ok questo qui dovrebbe essere questo oppure switch to previous app with gesture quindi se facendo uno swipe si va sull'ultima applicazione utilizzata questo ce l'ho installato perché comunque è simpatica clock face clock face semplice permette di costruirvi il vostro orologio le facce di orologio quindi non c'è altro da aggiungere perché è abbastanza intuitiva come come applicazione qui arriviamo ad una parte importante multistar multistar è una di quelle estensioni che ho deciso di installare perché perché prima di tutto permette di impostare il lancio veloce nel multi windows per poterlo attivare io siccome utilizzo fluid gesture navigation devo ritornare devo disabilitare fluid gesture navigation per farvi vedere che in questo caso possiamo scegliere con tenendo premuto il tasto del diciamo delle dei recenti possiamo scegliere se andare direttamente nella visualizzazione divisa oppure pop up view vedete in questo caso molto molto comoda poi c'è la possibilità di abilitare il multi windows su tutte le app ok io annullo perché bisogna riavviare lo smartphone qui permette di rimpicciolire questo multi windows screen zoom di rimpicciolire il contenuto all'interno dell'app per poter vedere più contenuti quando lo utilizziamo in multi windows molto utile ad esempio sul sul fold multifocus qui permette di sulle app che si interrompono quando perdono il focus affinché non si verifichi più ancora non ho capito benissimo questa funzione come viene poi di fatto diciamo declinata nell'applicazione pop up view action permette con vedete uno swipe negli angoli di impostare il pop up view in pratica qui vi faccio vedere gli angoli che si illuminano in alto a destra in alto a sinistra con uno swipe da quell'angolo verso il centro dello smartphone si arriva alla alla pop up view qui dice di se volete impostare il fatto di avere l'ultima impostazione usata previene qui per prevenire la diciamo la miniaturizzazione la minimizzazione della vista senza che voi l'avete selezionato qui è possibile cambiare il change split color ok scusatevi perché qui ho impostato questo allora in pratica vedete la barretta sotto la barretta sotto permette di definire il colore rosso piuttosto che piuttosto che altro andiamo a chiudere questa e poi niente queste queste due opzioni non sono disponibili in questa in questa estensione quindi abbiamo visto multistar nav star anche questa non la utilizzo perché non utilizzando vado a riabilitare fluid gesture navigation non utilizzando la barra di navigazione non la vado nemmeno a personalizzare però se siete utenti che preferite utilizzare la barra di navigazione qui c'è la possibilità di sbizzarrirvi nella configurazione sia a livello di cambio di icone sia a livello di disposizione piuttosto che di colori il layout come volete impostarlo oppure mettere un'immagine in background in modo tale nella home insomma potete personalizzarlo questo è nav star ritorno su good luck se ci ritorno good luck good luck nav star l'abbiamo visto notistar notistar anche un'altra estensione che non ho che ho deciso di non installare perché in pratica qui fa una cronostoria di diciamo imposta 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 chi imposta in automatico e cataloghi cataloga le notifiche che avete ricevuto in base delle impostazioni che voi avete dato vedete per esempio qui all girlfriend fidanzata football in pratica le va ad accorpare in modo tale che siano per voi più raggiungibili qui è la creazione dei filtri pratica dei filtri sulle notifiche ma non la trovo molto utile però per chi riceve tante notifiche può essere per lui utile farla fantastic fantastic è specifica per i note perché vi faccio vedere permette di personalizzare l'air command in questo modo io ho messo questa cycle oppure potete mettere retro molto molto figa per i nostalgici scusatemi ho sbagliato per i nostalgici io ho impostato questa perché mi piace più compatta però potete impostarlo come il puntatore quindi che tipo di puntatore mettere a utilizzare possiamo utilizzare questo vedete comparirà questo puntatore oppure customizzarlo con qualcosa che volete voi io uso il default sound anche qui potete andare ad impostare il il suono che fa la la s pen e qui cosa fare dopo il tap quando diamo sullo schermo ho messo la selezione intelligente dovete però fare attenzione che se avete impostato il doppio tap per spegnere lo schermo ovviamente spegnerà lo schermo e quindi la la s pen non prenderà che il caffè è stato introdotto da da poco ok permette di in pratica se non ricordo male di personalizzare la tastiera però sinceramente io utilizzo swift key e mi trovo benissimo non ho però qui permette di personalizzarla e quindi apre scenari nuovi la cessione della tastiera samsung che comunque è un'ottima tastiera wonderland permette di se non sbaglio attivare i wallpaper quindi potete andare qui e fare delle impostazioni su wallpaper e in modo tale da anche fare wallpaper in movimento quindi molto utile se avete un immagine un pacchetto d'immagine o qualcosa che volete e in pratica impostare come screen saver screen saver come wallpaper attivo team park team park come dice la parola permette di personalizzare il tema quindi unita alla personalizzazione dei quick settings che potete fare anche qui come vedete in alcuni casi sono anche doppie le funzioni che offrono i pacchetti potete andare a personalizzare il tema io ripeto utilizzo ex installer quindi se devo impostare qualche tema lo faccio lì perché la trovo molto più completa però è sicuramente un'ottima app app nice sketch nice sketch nice sketch qui fa la cronostoria delle notifiche ricevute le vibrazioni quindi devo a dire precisamente cosa e perché ha vibrato lo smartphone in modo tale da avere delle statistiche sulle vostre notifiche non ne trovo l'utilità però c'è one end operation plus permette di in pratica io utilizzo fluid gesture navigation però anche questa la devo provare un po più avanti perché è diventata molto più complessa o meglio non complessa molto più completa molto più ricca di opzioni quindi la sto utilizzando sul fold 2 perché è molto grosso quindi necessita delle delle gesture ma così anche come il note 20 ultra sul quale sto facendo la recensione e mi sto trovando molto bene diciamo che samsung ha preso il buono di un po tutti i brand che ci sono in giro sulle sulle gesture anche app di terze parti e quindi come al solito riesce a dare sempre qualcosa in più questa la devo la devo approfondire perché la trovo molto molto importante c'è molto definita edge lightning plus permette di aggiungere ulteriori effetti ulteriore personalizzazioni a edge light quindi alla possibilità di illuminare il display in base alle notifiche quindi diciamo che sicuramente è molto utile e lo scaricata ed installata edge touch edge touch che non ho impostato in pratica se avete difficoltà a utilizzare il display edge di samsung nel senso che non so avete le mani piccole delle mani grandi oppure non riuscite a prendere le misure questa permette di impostare la zona entro il quale il display edge non deve funzionare quindi non deve prendere i tocchi molto molto utile nel caso in cui voi abbiate questo tipo di di esigenza l'ultimo che ho installato e sound assistant sound assistant assistant è un'estensione del pannello del pannello del suono ok è una chicchetta molto importante che secondo me vi consiglio di installare che qui con un semplice tocco riuscite ad impostare la il volume e l'audio di tutto lo smartphone qui si possono impostare anche i vari scenari quindi ci sono quelli preimpostati caso ufficio sonno un po come se fossero delle delle routine di bixby qui il tema del del volume quindi quale volete se classico o quello la classico vedete in alto oppure se volete il sero che è quello che io laterale così almeno ci arrivo anche con con il pollice quando utilizzo lo smartphone e il colore quindi anche che tipo di di colore utilizzare e qui c'è tutto il livello di personalizzazione assurdo qui anche la possibilità di impostare il volume delle singole applicazioni piuttosto che il pulsante mobile cioè che potete vedete in questo caso spostare però andiamo un po troppo nello specifico è per me è un po troppo anche gli scaglioni il punto cursore del volume potete impostarlo quindi vedete aumenterà più o meno in questo in questo modo con le frequenze deve essere modificato audio multiplo seleziona quella applicazione per produrre l'audio contemporaneamente alle altre separa l'audio dall'applicazione queste sono alcune funzioni che già ci sono all'interno della one way ma che vengono raccolte tutto all'interno di sound assistant così come qualità audio ed effetti c'è già ma viene raccolta qui in modo tale da avere tutto in modo più razionale all'interno di un'unica applicazione se non sbaglio ho finito quindi questo è good luck che vi ricordo potete trovare sul galaxy store se la recensione vi è piaciuta mettete un mi piace iscrivetevi al canale e iscrivetevi al nostro canale samsung galaxy modding italia che è il canale telegram da Tony Soff è tutto fate i bravi alla prossima